Vogliono, pretendono giustizia i familiari della ragazza giulese di 21 anni che ieri in ospedale doveva avere portato in grembo per nove mesi e cinque giorni il suo bimbo ha saputo che il figlio tanto desiderato era morto. Cosa è accaduto? Saranno le indaggini estese a 360 gradi a dirlo. La donna ieri mattina si era recata nel presidio ospedaliero Vittorio Emanuele per delle ecografie già programmate da tempo ed indispensabili al fine di monitorare le condizioni di salute del nascituro e della madre. Ed è stato in quel momento che la ventunenne è stata destinataria della tragica notizia il cuore del bimbo non pulsava più. Ci sono stati momenti di altissima tensione tra i familiari e i sanitari tra urla di disperazione per quanto avvenuto. Sul posto è stato sollecitato anche l'intervento delle forze dell'ordine. Sono giunti i carabinieri e polizia per riportare la calma al terzo piano dell'ospedale dove insistono la divisione di ossettricia e ginecologia. Chiediamo giustizia, hanno detto i familiari. Bisogna sapere se sono stati commessi degli errori. Il bimbo avrebbe dovuto chiamarsi Loris, un bimbo che non ha mai visto la luce. Un figlio tanto desiderato che muore ancora prima di nascere è una cosa inimmaginabile che purtroppo accade. Non escluso che il corpo del piccolo possa essere sottoposto ad un esame autoptico, dovrà deciderlo la magistratura. Una delle ipotesi è che il bimbo possa essere stato soffocato dal cordone ombelicale della madre. Un'indagine interna al presidio ospedaliero di Via Palazzi è stata avviata dal direttore Luciano Fiorella. Si vuole ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.